Preside, si inaugura questa mostra dedicata naturalmente a Salvatore Quasimodo di padre in figlio. Sì, la mostra dedicata a Salvatore Quasimodo non poteva che inaugurarsi nell'istituto comprensivo che è intitolato al grande Salvatore Quasimodo. Di padre in figlio perché? Perché è proprio grazie al contatto che è stato trovato dagli amici del Centro di Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo con il figlio Alessandro e che è stato possibile reperire alcune fotografie che poi fanno parte di questa mostra. Quindi il motivo per cui la figura di Alessandro Quasimodo è importante è questo. Ma credo che l'iniziativa è importante in sé perché è opportuno che nella nostra città si dia risalto finalmente a questo grandissimo poeta che è stato insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1959 e che probabilmente è stato forse un po' dimenticato e comunque non messo adeguatamente risalto come tanti altri letterati italiani. E quindi sarebbe opportuno sia che la città di Gela e che i politici si spendessero anche per riconoscere questo suo ruolo importante anche perché ha vissuto nell'infanzia a Gela e il papà era capo stazione e ha frequentato le scuole elementari, la prima elementare a Gela nel 1908. Quindi c'è proprio anche un pezzo di storia, della sua storia personale che è legata alla nostra città oltre che come c'è una ben nota lirica dedicata anche alla nostra città. Per cui credo che questa iniziativa sia importante e speriamo sia anche faccia parte di una serie di iniziative che insieme al Centro di Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo organizzeremo nel futuro. Una delle prime cose che bisognerebbe insegnare ai bambini è fare scoprire il personaggio a cui è dedicato alla scuola. Lei ha perfettamente ragione, peraltro ho avuto un'idea che non voglio rivelare perché vorrei che fosse una sorpresa quando mi sono insidato qua come dirigente, poi per una serie di motivi preso dal lavoro non ho avuto modo di farlo però bisogna dare sempre maggiore risalto a questo personaggio così importante per la nostra scuola proprio perché a lui è intitolata la scuola, quindi mi pare la sua osservazione è assolutamente corretta e pertinente.